L'amico Daniele ha studiato. Vediamo, dai. Tu tieni? Juventus. Bianco e nero, eh? Sì, sempre. Venderesti a gennaio a Alessandro per 60 milioni per prendere Spinazzola? Come mai? Mi piace a Alessandro. No, l'Alessandro non si può vendere. Credi più nel settimo scudetto consecutivo o nella Champions? Nessuna delle due quest'anno. Ma quale c'è? Champions? Magari. Ma come sei negativo? Eh, non so. Dopo sette scudetti consecutivi. Dai, facciamo vincere al Milan. Facciamo vincere al Milan, va. Dai. Borucci non ha spostato gli equilibri. Ti aspettavi che abbia un rendimento così mediocre nel Milan? Speravo. Speravo. Ho visto che sei andato dall'Aiglio e speravo che... E' da bravo bianconero, ovviamente. L'ultima. Sorpresa a Benatia. E' ritornato ai fasti di Roma. Lo credi più forte di Borucci? No. Borucci è più forte. Però fin quando gioca bene. Sei contento del derby di ieri? Ci mancherebbe. Forza Juve. Fagliunino, fagliunino. Forza Juve. Sempre Forza Juve. Per cosa pensare la Parade. Grazie Daniele. Ciao. Ciao. Grazie.